In arrivo 200.000 cartelle esattoriali per i napoletani, il servizio di Diego D'Onoro. Che sia per omesso versamento o per mancata dichiarazione, il numero del cartello esattoriali in arrivo nelle cassette postali dei cittadini napoletani è impressionante, 200.000. I mancati incassi, secondo l'ultima stima del Comune, ammontano a 2 miliardi per l'imposta sugli immobili IMU e 700 milioni per quella sui rifiuti Tari. Poco nulla da fare riguardo alla richiesta degli esattori, adeguare il livello dei servizi pubblici, altro discorso. È giusto pagare le tasse, però altrettanto giusto che il Comune adegui i servizi per i cittadini e per il turista che sta premiando Napoli. Grazie.